Mi chiamo Silvia Tasca, sono responsabile del settore matologia del Laboratorio San Marco. Lavorare al Laboratorio San Marco per me è sempre stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Si respira grande professionalità e amore per il proprio lavoro. L'opportunità tutti i giorni di confrontarsi con colleghi appartenenti a discipline diverse rappresenta per noi motivo di crescita professionale e continuo aggiornamento.